Vado io eh So che alcuni di voi potrebbero avere dei malumori nei miei confronti Per alcune decisioni che ho prese in passato Tuttavia Vi prometto un'epoca di gloria che potrà perdonare tutti i sopprusi del passato E voi sapete che ho i mezzi e i materiali per offrire davvero questa epoca di gloria Che non è solo una promessa, non è una lontana speranza Ma è realtà E se soltanto voi mi darete l'onore di ricevere il vostro magnifico, pregiato, unico, delizioso voto Io potrò dimostrarvi con fatti e non pugnette Che un'era di ricchezza è veramente alle porte E non vede l'ora di entrare Chi ti vota? Vai a casa Ti piace? Ah vedo che a uno di loro piace essere povero Forse per lui non è l'era giusta ma per voi altri ovviamente lo è La ricchezza ci piace Bravissimo No!